Mr. Bianco è sotto shock per quanto scoperto ieri sera nel cuore della cittadina dell'Interland, dove è stata trovata senza vita Luana Finocchiaro, 41 anni, madre di tre figli. Ma di ora in ora, con gli sviluppi delle indagini, la vicenda si stringe di particolari che lasciano scomenti. Per l'omicidio, infatti, è stato di fermo l'ex convivente di Luana, un uomo più giovane di lei di 4 anni, e con cui la donna ha avuto un figlio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Vincenzo Di Mauro, questo è il nome del fermato, avrebbe strangolato la vittima mentre il piccolo era in casa. Sentito dagli investigatori, ha negato il coinvolgimento nel delitto. Oggi si scopre che nel luglio del 2000 Di Mauro uccise un vicino di causa perché aveva insidiato la sua fidanzata dell'epoca, e recentemente era finita ai domiciliari anche per una denuncia presentata da Luana Finocchiaro. Dopo tre giorni, però, l'ex compagna aveva ritirato la denuncia e l'uomo era tornato libero.